Dopo il Conservatorio di Torino è stato il palco del Teatro Toselli di Cuneo ad ospitare la sera di venerdì 1 febbraio Songs for Eternity, lo spettacolo che la cantante tedesca Utelemper ha dedicato alla musica e alle canzoni scritte nei ghetti e nei campi di concentramento da musicisti ebrei vittime della deportazione nazista. Lo spettacolo ha chiuso la settimana di iniziative per la giornata della memoria organizzate dal Consiglio regionale del Piemonte, manifestazioni che hanno contribuito a gettare un ideale ponte tra generazioni, seguendo il filo del ricordo per meglio comprendere ciò che è stato e spiegarlo a chi di quegli eventi non è stato testimone. Perché non ci può essere futuro senza memoria del passato. Siamo felici di poter portare a Cuneo questo importante concerto, ci siamo impegnati molto come Comitato Resistenza e Costituzione. Cuneo l'ho accolto bene perché Cuneo è un luogo che coltiva da sempre la memoria. Tutto questo si aggiunge a questa serata che va a cogliere un aspetto intimo perché gli uomini hanno smesso di essere uomini poeti anche nel momento più buio, uno dei momenti più bui dell'umanità. Pensiamo che questo ci aiuterà a mantenere la memoria e a manutenerla rispetto ai rischi che corriamo oggi. Un concerto atteso e partecipato, quello di Utelemper e al Teatro Toselli, perché proprio la città di Cuneo, medaglia d'oro al valor militare e molti comuni della provincia grande hanno pagato nella guerra di liberazione un notevole tributo di sofferenza, fatto di rastrellamenti, persecuzioni e deportazioni. A 8 chilometri di qua, esattamente a Borgo San Dalmazzo, c'è il memoriale della deportazione. Da lì sono partiti centinaia di ebrei per andare nei campi di sterminio di Auschwitz, Birkenau. Pochissimi sono rientrati, tanti erano bambini, donne, uomini. Forse le canzoni erano cantate anche da loro.